Grazie a tutti, arrivederci. Tanti auguri! È una donna fortunata, perché ha avuto vicino tante persone che l'hanno voluta bene e che l'hanno accompagnata a tornare a casa dal suo figliolo. Grazie, grazie, grazie. Il sistema sanitario sta funzionando, lo sta dimostrando, e queste sono le dimostrazioni più tangibili, quando l'impegno del medico, dell'infermiere, dell'ausiliario e di tutto alla macchina riesce a dare queste risposte, questo è il miglior ripago per tutto quello che è stato fatto. Devo dire, grazie all'assessorato che ci sta dando l'opportunità di fare le scelte più opportune nell'interesse dei pazienti, nella sicurezza degli operatori sanitari. Ecco, questo è importante che credo venga ribadito.